Il venture capital rappresenta una vera e propria linfa vitale per l'industria del domani. Lo sanno bene all'estero, soprattutto in paesi come la Gran Bretagna e l'Irlanda, dove l'investimento in start-up è un motore di crescita e sviluppo. L'Italia, invece, in questo senso, è ancora indietro e fatica a dare impulsi propositivi all'ecosistema delle start-up e dell'innovazione. Eppure questo ritardo può diventare un'opportunità, come ci spiega Luigi Capello, amministratore delegato di El Venture Group, intervenuto nell'ambito dell'Innovation Day al Milano Luisab. Il mercato del venture capital oggi in Italia è, diciamo, arretrato rispetto agli altri paesi europei ed è ovvio che dobbiamo fare molto per recuperare questo gap. Lo consideriamo comunque una grande opportunità perché questo significa che i prezzi delle nostre start-up sono sicuramente molto, molto interessanti ed è questo che dobbiamo cogliere. Dobbiamo continuare a investire sempre di più nel venture capital perché, ricordo, è un capitale etico che serve per lo sviluppo economico di un paese, in particolare per dare il lavoro ai giovani e a creare ovviamente l'industria del futuro. Perché l'industria del futuro decolli? È necessario che il pubblico giochi la sua parte e contribuisca ad accelerare questo processo. Qualcosa è stato fatto nell'ultima legge di bilancio con l'introduzione del Fondo Nazionale per l'Innovazione pensato per aiutare le start-up a cercare capitali di rischio. Ma serve concretezza per dare seguito ai buoni propositi. Sono stati fatti numerosi interventi legislativi ed è chiaro che questi interventi però devono essere come dire eseguiti, manca un po' di execution su questo. Tra gli altri ricordo la partenza del Fondo Nazionale per l'Innovazione, previsto nella legge finanziaria, sono passati diversi mesi, ecco ci aspettiamo come dire un po' più di concretezza che questo parta. Questi soldi sono fondamentali, succede in tutti gli altri paesi europei che ci siano dei fondi nazionali che coinvestono con gli operatori di venture capital, per cui ci aspettiamo che questo parta presse e dia buste al sistema. In questo panorama, El Venture Group, che investe in start-up digitali ad elevato potenziale di crescita, si pone come primario interlocutore per l'innovazione industriale, operando nelle fasi iniziali del venture capital nel cosiddetto mercato seed, quando l'idea di impresa è ancora in fase sperimentale. Il mercato seed del venture capital, innanzitutto due elementi. Uno, che il venture capital è tra le asset class più redditizie, ovviamente nel lungo termine, tra le diverse attività finanziarie. E secondo, l'asset class, quella proprio del seed, è quella all'interno del venture capital più redditizia. Per cui noi ci collochiamo proprio in quella fascia lì, siamo quelli che vanno, come dire, tipo cani da tartufa a cercare le idee, i talenti, eccetera, eccetera, per trasformarle e portarli sul mercato, ovviamente mettendo soldi, impegno, risorse, per creare nuove imprese e nuove industrie del domani. Nel piano industriale del 2022, recentemente presentato, il venture group ha previsto un totale di 30 milioni di investimenti, con un utile positivo su tutto il periodo e un aumento di capitale per un massimo di 8 milioni di euro nel 2019, finalizzato proprio a potenziali le proprie attività. Abbiamo due punti molto interessanti, uno è il fatturato, il 2019 atteso siamo intorno ai 5 milioni, abbiamo un margine operativo lordo in pareggio, l'ultima riga per cui continuiamo ad avere un utile positivo. Il nostro portafoglio è stando molto bene, siamo in una estrema valorizzazione dello stesso e continuiamo, come dire, di superare i dati che abbiamo dato di bilancio, perché questa è un po' la nostra scommessa. Abbiamo tante start-up che stanno incrementando di valore, sempre più investitori si affacciano, per cui siamo veramente molto soddisfatti. In prospettiva il venture group punta a spingere le proprie start-up sui mercati internazionali anche attraverso alleanze con investitori e acceleratori, consentendo alle giovani imprese di trovare i fondi necessari per scalare in fretta il mercato.